Buongiorno, sono Massimo Marion, titolare dell'azienda agricola La Giara. La Giara deriva dal nome dialettale della ghiaia e dalle nostre parti si chiama Giara, quindi da là è partito il nome La Giara. La Giara praticamente non è altro che un sedimento che portava a suo tempo il fiume Piave, quindi copriva enorme estensioni di ghiaia, quindi i terreni erano composti per il 90% da ghiaia, quindi da Giara. Concettualmente il vino biologico è praticamente un vino che deriva da uve non trattate con prodotti chimici, quindi cerchiamo di allevare o arrivare alla maturazione del frutto senza intervenire con prodotti chimici, quindi tutto in modo naturale, quindi tutti i componenti che vengono usati per tutelare la pianta da eventuali parassiti sono ottenuti da essenzia di prodotti naturali o da derivazione naturale. Noi produciamo per il 90% vini spumanti, il vino di punta è giustamente il prosecco come viene rappresentato qui allo stand e il nostro cavallo di battaglia è la forma brut, quindi il prosecco spumante brut. Noi siamo produttori per il 95% di spumanti, quindi la nostra specialità sono i spumanti in generale.